Parapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Perico il mille Pronto? Si comincia Vai 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 Battiti con me Su giù su Ecco il mio fulmine E e e Na 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 E e e Na 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 Caspita che il fuoco è attente Brunelli sei davvero potente Ma devo dirti una cosa Fratello se e e So reggere il calore a livello So si Vai 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 Battiti con me Su giù su Ecco il mio fulmine E e e Na 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 E e e Na 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 Sì Grazie per il sitilo Grazie a tutti